Più 7, 22 secondi, sono 17 anni che questa gente sta aspettando questo urlo! Sono 17 anni che la Virtus aspetta di tornare in Serie B, godetevelo, ricordatevi con chi siete a vedere questa partita perché abbiamo scritto la storia, abbiamo scritto la storia insieme, siamo la Virtus, Ivola e Serie B! Grazie! 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 Grazie!